E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Finalmente siamo su will to live online che ci ho portato una live qualche settimana fa Che gli sviluppatori mi hanno dato la chiave in accesso, insomma prima per potervelo portare E sono stati così gentili da avermi dato il PG a livello A passarmi comunque il livello 25 perché io ho detto Per riuscire a portare qualche contenuto mi farebbe comunque comodo avere un PG di livello alto Perché insomma secondo me è più bello far vedere il gioco in questo modo E quindi niente Un rato enorme Quindi niente allora C'ho da fare una missione che devo andare a recuperare del carbone Quindi mamma mia le super missioni E sinceramente io tutta questa roba sono sincero non la voglio Perché mi prende un botto di spazio anche il cucchiaio Via via queste cose via Mettiamone il 5 poi vabbè c'è l'antidoto le varie cose Ok E quindi Sono stati molto gentili E niente li ringrazio davvero tanto Gli chiedo le cose rispondono E quindi niente Insomma Per chi ha visto la live La prima live che ho fatto sul gioco Avevo solo la pistolina E niente Diverso tempo fa mi passarono già 25.000 soldicini Mi ci comprai già quest'arma che sto utilizzando ora insieme al mirino Poi ho visto che con il livello 25 mi hanno ridato i altri 25.000 Però non è che me li hanno aggiunti Ma mi hanno fatto arrivare a 25.000 E insomma vabbè adesso sono a 2.000 Perché ho comprato comunque le protezioni Ho comprato Munizioni La pistola L'MP 153 E quindi anche qui una volta ritroviamo Il fucile a pompa Quindi citazioni ad escape from tarco Ora qui prendiamo queste cose Perché teoricamente mi servono per una missione Teoricamente Quelle le ho di già E niente Quindi andiamo a vedere sta missione per il carbone Che mi serve veramente tanto Ho visto che ci giocava anche Yotobi in live Quindi Yotobi Eh Se ogni tanto ti va di giocarci insieme Non mi guarderà mai Yotobi E niente Comunque spero che questo gioco vi piaccia A me sinceramente mi piace Il problema è che ci vuole tantissimo Per arrivare al livello 25 Davvero tanto Io ero Cioè in Oddio Cioè a livello 7 E un pochettino Ci ho messo 11 ore di gioco Cioè comunque Sono tante 11 ore di gioco Per arrivare soltanto al livello 7 E ora vi faccio vedere Quanto ci vuole per arrivare Al livello Dov'è Ai livelli Più alti Guardate Questo è dal 25 al 26 Sono 482.000 Su 513.000 Tantissimo Davvero tanto Non mi aspettavo che ci volevi Cioè non pensavo Cioè quelle prima Si L'avevo visto che ci voleva tanto Cose Due Cioè insomma 7.000 punti esperienza E fin lì Ci stai Ma poi quando iniziano a diventare 580.000 Lì è un problema Per chi Mi conosce Per escape Eccetera Chi mi segue già da diverso tempo Sa che io sono un feticista Dell'ASVAL O WSS In generale E in questo gioco c'è Però io l'ho chiesto E mi hanno detto Che si prende solo Con le missioni Quindi spero che Insomma spero di riuscire Ad arrivare a quella missione Ah qui sono in safe zone E il carbone si prende soltanto là Dai Ah quindi anche questa è un'altra safe zone E con loro cosa faccio Oh c'è un altro amico Hello Bottiglietta d'acqua finta Another location Ok Non ci voglio andare Perché mi voglio focussare un secondo Su questa missione Quindi voglio tornare di qua Spero che comunque Si veda bene E che L'audio del gioco si senta bene L'audio della mia voce si senta bene Perché è la prima volta Che sto provando a fare un video Con OBS Lo feci Con Mentre c'è il video Quello all in di escape Che eravamo in live con Fraus Avevo attivato la registrazione Perché non si sa mai Vaffanculo Non salta Quindi ho detto Dai proviamo Facciamo Un po' Un video Vediamo se esce qualcosa Ho provato Però come bitrate Per un video Non erano abbastanza Adesso l'ho alzato Ho visto che non pesavano tantissimo E niente Quindi speriamo che La qualità Sia Godibile Insomma spero che sia godibile Anche perché mi risulta più semplice fare così Perché ho Faccio partire Già tutto in sincro Non si sente il fruscio sotto Che devo sistemare poi con Con audacity Perché con audacity Quando faccio Registro Devo andare Insomma dopo La registrazione Devo sistemare le cose E quindi Spero che ci senta bene Allora Carbone Prendiamo questo Carbone Me ne da tre Ok Menomale che è sparso in giro E non solo in quel punto Però forse più vicino In quel punto Se ne trova di più E vi sparo Ratti Ho finito i colpi Già che adesso Non è che mi dovrebbero fare Chissà quanto Cioè quasi niente Di danno con queste Con queste cose Con queste protezioni Perché comunque Sono a livello Basso per me Più o meno Basso insomma Beh 10 livelli in meno Dai possiamo Dire che siamo Che loro sono a livello basso Allora purtroppo Stiamo combattendo Con dei ratti Perché per me Ieri Che è giovedì Per voi Oggi non so Quando sia Però insomma È la settimana Già dopo Volevo fare una live Su will to live online Perché il gioco Il 5 È uscito In accesso anticipato In descrizione Trovate comunque Il link Per andarlo a comprare O semplicemente Andate su steam E cercate Will to live online E lo trovate così E quindi niente Allora Però non ero riuscito A fare la live E avevo portato Un po' a far cry Ma davvero Con le live No Mi devo focussare Con i video Come ha detto Fraus una volta Lui Come lui Giustamente Si deve concentrare Con i video Le live sono Delle cose extra Ci ho pensato Anch'io a questa cosa E sinceramente Anch'io Mi devo focussare Con i video Perché Sono nato facendo video E Le live Le vorrei fare Una volta Che ho la fibra Quindi Potrebbero tornare Due video A settimana Essendo che Utilizzerò La Il 4G Non per fare le live Ma per caricare i video Così in un'ora Carico i video Ah ho già fatto Questa missione Quindi J ma Posso Craftare questo Perché Non me lo faceva craftare Quindi devo uscire Proprio da questa zona In cui sono Charakter No Dove Le perdo Quest log Allora ho fatto questo Dovrei fare Questo E quello Facciamo tipo questo Che devo andare Là Quindi insomma Tornando indietro Si ritrovano Ah quindi devo prendere La roba di quei Cosetti bellini Ok Così almeno ci prendiamo Un altro po' Di soldicini Perché davvero Ne avevo 25.000 Li ho finiti Tutti Cioè Ne ho 2.000 E La cosa bella Di quando Di prima Che dovevo fare la live Era andato un po' E ho trovato un botto di gente E ho ucciso tutti Tutti Perché comunque Quest'arma è forte Davvero È fortissima Ed è stato molto bello Che lo facciamo avvicinare Perché se no Che gli sviluppatori Su facebook Quando mi hanno passato Insomma Mi hanno messo Il livello 25 Mi hanno detto Kill them all È stato molto bello Quando mi hanno detto così Allora Vediamo a questo ratto Quanto gli faccio Questa pistola È potentissima Cioè Costa 7.000 Monetine Non saprei Quanto fa Quella da 10.000 Che è l'ultima Che sblocchi Ok Dammi Le zanne E basta Poi Vediamo Dove sono Gli altri Che c'è Faccio forse più danni Anche ai Bufaloni Con questa Esatto Che con Quell'altra Non vedo l'ora Di arrivare a prendere L'asval Purtroppo Non posso Prendere il mosin Perché Che devo avere Una certa classe Forse ho sentito Spari Non vorrei dire Boiate Eh ho sbagliato Ma mi sembra Di aver sentito Spari Andiamo Hmm 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 Poi Scrivete Voi nei commenti Se non succede Qualcosa Tipo un fight Ditemi se Effettivamente C'erano degli spari Hmm E poi ovviamente Fatemi sapere Anche se Ehm Come audio Cose Vi piace Perché per me È più semplice Fare video così Sono sincero Davvero Ah Allora Qua dove si va Ah Si va dove prima Sto tornando indietro Excuse me Non volevo Allora Ho trovato Le penultime Insomma Le altre foglioline Che mi servivano Per l'altra missione E sarebbe bello Portare a casa Tre missioni Quindi comunque Andiamo di qua Vediamo se ce ne sono altri Bene o male Mentre ce ne andiamo di là Troviamo un'altra zona Dove ci sono i bufaloni Però eccolo già qui Davvero Non vedo l'ora Di sbloccare La svalche Ah Io sono Un fetish Per quella roba E Secondo me Questo gioco Ci si gode Proprio appieno Una volta Che sei arrivato A questi livelli Perché Perché ha seguito La live Quando siamo Dentro a questa zona È piccolino Poi guardate Dopo quanto è vasto E l'hanno anche aumentato Rispetto a prima Qua ci sono altre zone Che possiamo andare In altre In altri punti Grandi quanto questo Quindi La mappa è immensa E non me l'aspettavo Cioè Quando io sono uscito Da Dalle mura Ci sono rimasto Male Tra virgolette Ma male In senso buono Non mi aspettavo Una mappa Così grande Il gioco Costerebbe 15 euro A prezzo pieno Adesso è a sconto A 12 euro Però non so Non ho controllato Fino a che A che giorno È a sconto Quindi magari Ve lo ritrovate Comunque a sconto E secondo me Vale anche 15 euro Sono sincero Perché giocherai Tanto Perché è pieno Di missioni Cioè se le persone Arrivano Nel livello 25 Facendo missioni E ci vuole così tanto A raggiungere Il livello Alto Insomma Vuol dire che Missioni ce ne sono tante Ma magari più avanti vai Più ti danno Non lo so Ci sono mostri Ganzi Nella zona Quella che comunque Vi ho fatto vedere Dove andate Mostri Fighissimi E quindi poi Vi porterò sicuramente Più video Anche su questo gioco Adesso che Mi hanno dato Il livello 25 Perché io proprio Stavo aspettando Di avere Insomma Questo livello Sono davvero Davvero contento Che degli sviluppatori Mi hanno preso In considerazione Per una cosa Del genere Io ho scritto Mi hanno detto Assolutamente Mi hanno detto Proprio molto Gentilissimi Certo Stiamo facendo la patch Stiamo completando La patch Della versione inglese Appena sarà fatta Ti passiamo la chiave E Dopo che avevano Completato la patch Mi hanno riscritto Chiedendomi se ero ancora Interessato E ovviamente Io ho detto di si E quindi Sono contento Che mi hanno riscritto Loro per prendere La chiave E Gli ho chiesto Se era possibile Avere il livello 25 Per portarvi Insomma Contenuti Più succosi Più soldi Per poter Comprarmi le cose Per comunque Portarvi contenuti E Loro hanno detto Che non era possibile Fare la cosa Dei livelli Attualmente Però dei soldi Quindi mi avevano Quindi mi avevano passato I soldi Mi stavo facendo I livelli Però in 10 ore Era arrivato davvero Il livello 7 E io ho scritto Guardate Io Mi farebbe più comodo Davvero E Dopo un po' Madonna Quanto scattoso Adesso Mamma mia Aiuto E Dopo Mi hanno detto Insomma Mi hanno scritto Sei interessato Cioè Non puoi provare Il gioco A livello 25 Ho detto Cazzo Si E Poi mi hanno riscritto E mi hanno detto Il personaggio A livello 25 Ti sta aspettando E Sono andato a vedere Non c'era E Ho sentito Dei passi Sono pazzo Io Ho sentito Più passi Di quelli Che c'erano Ah Sono spari Andiamo Forse Ve lo vedo Se sta facendo Questa zona Non è Il livello Basso Quindi Magari Ci sarà Anche Un bel Fight Madonna Si Però Ti prego Non mi Scattare Perché mi Scatta così Non me l'ha Mai fatto Può essere Che Quando apro BS Mentre ho già Il gioco Aperto Poi mi Mi bagga Tutto il gioco Aiuto Aiuto Davvero Mi Stattera Fortissimo Scusate Voglio aprire Infatti Infatti Si è Buggato Madonna Se si è Buggato Ok Riavvio Il gioco Ci trovo Almeno Ok Ok no Perché No dai Non Non mi fare Così Aspetta Ok Uno L'abbiamo Preso Madonna Madonna Con questo lag È difficile Sì davvero C'è OBS Che si Bugga Una volta Che Lo apri C'è Quando il gioco C'è il gioco Si bugga Fa Buggare Tutto Madonna Aiuto Vabbè Intanto Luttiamo Ah ok Grazie Ok Rieccoci Tutto Sistemato Infatti Invece Di 60 FPS Ne faccio 180 Ok Allora Mi dispiace Per quelli Lì Poverini Allora Me ne mancano Ancora Sei La madonna Ogni tanto Tira qualche Laggata Sicuramente Sarà Ecco Tipo adesso Zero Mi è andata A zero Eh Dicevo Non sarà Ottimizzato Perfettamente Come tutti i giochi Insomma Allora Basta Non Non ce ne sono Più Diciamo Che Ehm 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 Come si sono Sentiti Loro Quando li ho uccisi Più o meno Ehm Come è successo A me Ehm Quando Quando giocavo Ieri Ehm Quando giocavo ieri ero livello 7 Quindi Che poi sono contento che i server Vanno bene Insomma 40 di ping Nonostante ci sia diversa gente Ehm Rispetto a Cioè Io prima comunque il gioco ce l'avevo Che ancora il gioco non era uscito Ehm Ed era Insomma Lo potevi comprare solo con i rubli Ehm Dal loro sito Ehm Per questo insomma Io ho scritto se potevano darmi la chiave Ehm E c'era pochissima gente Davvero Mentre andavi Ehm Trovavi poca gente Ehm Adesso C'è Ho trovato adesso Due persone Ehm Ieri 4-5 persone tutte insieme E quindi Ma adesso allora Io Io per Andare a portare le missioni Devo andare A sinistra Quindi poi devo andare in là Ok Quindi est E io qua devo trovare Quante me ne mancano 3 4 4 No 3 Si cazzo dico Però perchè tipo I suoni sono una cosa scriptata di brutto I suoni dei mostri Oddio E te Queste le prendo Perchè mi servono per fare Madonna Mi sembrano Sempre persone basse Sto finendo anche i colpi di questa Forse mi fa più comodo utilizzare la pistola Adesso Stai Mi devo comprare altri colpi Eh date tutte queste missioni Abbastanza Soldi per comprarmi altri colpi Perchè comunque Ehm Ho comprato 200 colpi E costano mi sembra 1,50 Ogni colpo Più o meno Ok Ok quindi dobbiamo andare di qua E andiamo a riportare le nostre missioncine Belle belle Quindi sono 3 Teoricamente i nomi dovrebbero dare poco Ok ci fermiamo un second Dino Sembrano silenziati Allora Perchè qua ho un'altra missione Teoricamente qua Praticamente non lo so Quindi voglio andare a controllare Non è in questa casa Mi sembra Fosse Mi sembrava sia Cioè in questa si No ho sbagliato Non ci Madonna Questa cosa è buggata Passa Dai Ok Fammi vedere Ok no Perchè mi serve una Una specie di Di robo Come si Allora forse Ho sentito uno Forse c'è un fucile da cecchino E' qui Solo un secondo Focusato sul gioco Perchè non capisco Lo sentivo Vicinissimo Ma non lo vedo Quello è un morto La sto rischiando Perchè se è uno col cecchino Mi potrebbe fare Particolarmente male O forse c'è uno A fare qui La missione Dei Dei cose Dei cinghiali Perchè qui c'è un'altra missione Dei cinghiali Non dei porconi enormi Ma dei cinghiali Normali Via Dai Io voglio Cinghiali Normali Giusto per Intendersi Perchè non sono Per niente Normali Solo Abbonevoli Cinghiali Delle neve Dove potrebbe Essere Ok Sento spari Di qua Forse c'è qualcuno A fare la missione Di là Poi c'è una Sottospecie di Karma System Se quando Esci fuori Dallo Spawn E ammazzi Qualcuno lì C'è la torretta Che ti instashotta E ogni volta Che esci da lì Ti instashotta Ok Li sento Li cecchiniamo Facciamo il Player Bastardo Pezzo di merda Dai Eccoli là Senti Lì c'hanno la Makarov Questi Poverini Ah Che male Quello era un Livello 14 Non era Nemmeno Basso Ah Forse qui Hanno ammazzato Un altro Player Ah Uh La bottiglietta D'acqua Piena Buono Ah beh Avevano anche Il Toz Ok Ogni tanto Si Si blocca Quando prendi Le armi Che poi Sembrava che Questo Mi avesse fatto Chissà che danno Invece La mia vita Sta bene Uh Questo Ci ha provato Ci ha provato Mi dispiace Che Potrebbe essere Un po' Un cheat Via Però C'erano già prima Persona a livello 25 Quindi va bene così Siamo tutti contenti Siamo tutti molto contenti Ok Questo non aveva cose Che ci interessano Però comunque La cosa bella È che Cioè Oddio Non so se chiamarla Bella o no Però Diciamo di si Perché così Non Nessuno è avvantaggiato Sul fatto che È avvantaggiato Chi gioca tanto Io Giustamente Comunque Non ho tanto tempo Per giocarci Quindi gli ho chiesto Insomma no Quello che ho detto Prima del livello E E quindi Visto che c'erano Già prima E io quando giocavo C'è stato Ora vi racconto Questa cosa Ora questo cosa Mi viene addosso Io ero qua Su questo ponte Ero con uno Che aveva la sballa A livello 25 Io ero Puttana che paura Sono rimasti Mi dispiace amici Non dovete La dovete La dovete Smettere amici Amici Vi prego Smettetela Dammi le tue bottigliette D'acqua Dammi le tue cose Questo è quello Che ti becchi Quando provi a uccidermi Stronzo Che poi è anche Uno spreco di risorse Se continuano a fare così Eh Ok Non so se avete notato Tornate indietro E guardate Quando ho luttato L'ultima Visto Non hanno vita Loro quando spawnano Non hanno vita Comunque Ora vi prego Ragazzi Smettiamola Perché insomma Arrivo Ok Ok Ho perso cose 11 firewood Minca Minchia No Dove sono No Qua giù in fondo Oddio Cazzo Oddio Era la torretta Quella Era la torretta Assolutamente Niente Non Non ho Non ho portato Le mie missioni Yeee Si era la torretta Per chi le aveva ucciso Troppo vicini E la torretta Credo fosse la torretta L'unica cosa Che mi viene in mente Ehm Però guardate Io mi bevo questa Zitto Zitto Ehm La vita Ora Me la tiro su Tutta Non ho più colpi Quindi questo Non lo posso più utilizzare Questi ne ho pochi Ma forse qui dentro Lo le posso comprare Può essere Non lo so Comunque niente Ragazzi Vi ho fatto vedere un po' Come è il gameplay Spero che vi piaccia Comunque questo gioco Perché sicuramente Ci porterò Altri video E Spero comunque Che vi sia piaciuto Anche il video Ehm Oggi è venerdì Per me Venerdì 6 E c'è il torneo Spero che Insomma Siate stati in tanti E spero Credo che ci siamo divertiti Sicuramente E niente Vi ricordo che trovate Il link Del gioco In descrizione Se lo volete comprare Su Steam Si chiama Will2LeaveOnline Di un massimo Di 15 euro Prezzo pieno E E niente Davvero Io vi ringrazio ancora Per avermi seguito Fino alla fine Se l'avete fatto E niente Noi ci vediamo In un prossimo video Nella speranza che sia Nel wipe Di Escape Quindi niente Vi ringrazio Alla prossima Ciao ciao